Non lo sa chi ha di fronte? Voleva qualcosa di più speciale. Sono un tipo appariscente. Signore e signore, Miss Billie Holiday! I giornalisti mi chiedono, Billie, perché fai quello che fai? Io rispondo così. Noi la amiamo. Per l'Associazione per i diritti dei neri americani, lei è la voce della nostra gente. Stavo pensando che dovremmo integrare il pubblico per il concerto, neri e bianchi seduti vicini. Non lo sapevi a chi andavi incontro quando hai deciso di venire intorno. Metti giù quei vestiti! Ah no, mi prenderò tutto tranne i reggiseni e il tuo uomo. Tra le mie canzoni, qual è la tua preferita? Strange Fruit. È una canzone che parla di cose importanti che stanno succedendo nel paese. Quella Holiday sta inducendo molti a pensare cose sbagliate. È come un segnale d'inizio del Movimento per i diritti civili. Ce l'hai un piano? È una drogata. Esattamente. La voglio cantare quella canzone. Lo faccio per il tuo bene. Io canto quello che voglio. Fatela scendere dal palco. Non mi lasceranno cantare da nessuna parte. Niente club, niente soldi. Mi pedinano. Non mi nasconderò dai federali. È diventata una star, ma voi non lo accettate. Perché è forte. È bella. Ed è nera.